Alfonso, alla mia età, quando sei a letto con una donna e senti formicolare le mani, o è un orgasmo o è un inferto. È una dipendenza, una malattia. Quelle donne non erano amanti. Che cos'erano? Clienti. Il grande gigolo. In questo momento, tua moglie sta trombando con la terapeuta. Sento un grandissimo desiderio di offendermi. Perché ci hai trovato all'attenzione? Ma, che dite? Devo chiederti un favore. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. Potrei darti una percepita delle ricavi. Ma per fare cosa? Marchette, marchette. Alfonso è un sex worker? Sì. Ma no. Perché sei giovane. Toy boy. Cosa? Non c'è guerra quando ho letto l'amore c'è. Vedrai che bomba che ti faccio diventare. Com'è bello far l'amore da Trieste. Sbattete, sbattete. Più forte. Com'è bello far l'amore. Io so pronta e tu. Tanti auguri. Ma che mi sono passata a mio suocero. Così, così. Ci siamo quasi. Com'è bello far l'amore da Trieste. Io. Sbattete. Bravo, figlio mio. Teresa. Esatto. Trovi un altro più bello che problemi non ha.